buonasera a tutti do il mio bentornato o il mio benvenuto a chiunque fosse connesso in diretta con questa diretta instagram di Don Leonardo risponde vedo che c'è già una domanda per cui scorro un attimo e cominciamo subito Lizza Galipo chiede durante la confessione cosa deve indossare il sacerdote io ho fatto la confessione e il sacerdote non aveva nulla ed era vestito con pantalone e maglioncino allora questa domanda diciamo così per quanto riguarda la validità del sacramento non ci sono problemi perché il sacramento è valido non in virtù dell'abito che si indossa ma della potestà sacerdotale di cui il sacerdote è rivestito di investito per cui non ci sono problemi certamente la dignità il decoro e del sacramento richiede che il sacerdote indossi camice stola oppure cotta e stola se importa la veste talare o quanto meno la stola e così come la disciplina ecclesiastica attuale prescrive con sacerdote deve indossare l'abito ecclesiastico sia la veste talare oppure la conferenza episcopale italiana ha autorizzato l'uso anche in via ordinaria e non soltanto per viaggio e cose di questo genere del clergyman non esistono autorizzazioni esplicite da parte della chiesa per un senso ad andare in giro in borghese anche se questo diciamo comportamento di per sé non prescritto né autorizzato diciamo così oggi è tollerato nella chiesa saluto tutti coloro che mi stanno salutando scorro perché vedo già diverse buonasera padre qual è la posizione della chiesa sulle adozioni chiede sibillia libis la posizione della chiesa sull'adozione non può essere che sommamente favorevole perché adottare un bambino è atto di grandissima carità perché trattato insomma una creatura come se fosse un bambino proprio senza esserlo ecco richiede certamente una grande carità ed è anche diciamo un convogliare secondo la volontà di dio quella grande sofferenza e quella grande croce che può essere per alcune famiglie il non poter avere figli quindi la sterilità i figli di dio non forzano il dono della vita ecco nonostante che alcune tecniche che tutti conosciamo oggi lo rendano appunto tecnicamente possibile ma abbracciano con amore questa croce offrendola al signore e si interrogano facendo discernimento se questo non sia un modo per dare una madre e un padre a chi purtroppo pur avendo quelli biologici non ce li ha quindi questa è cosa sommamente lodevole e raccomandata se non vorrei allora è il gatto io buonasera caro padre posso chiederle se è giusto che un politico affidi il popolo italiano al cuore immacolo di maria oppure strumentalizzazione e sarebbe stato opportuno non farlo allora non è mia abitudine come tutti quanti sanno dare giudizi sull'operato del prossimo e io ritengo che non bisognerebbe farlo nel senso che se un politico affida il popolo italiano al cuore immacolato di maria se il politico sente di fare questa cosa ne risponderà di quello che ha fatto e sente di farlo in coscienza risponde di quello che ha fatto davanti al signore per cui si è fatto un atto credendoci con il cuore espressione di fede autentica ne riceverà lodi da parte del signore se ha fatto un atto come dire per ostentare una fede che magari non ha ma non ha fini elettorali ovviamente ne riceverà meno lodi se avesse fatto un atto al fine di carpire consensi e voti altrui non ne riceverà lodi se avesse fatto un atto sconveniente ovviamente oppure non non adatto insomma alla condizione che è vale lo stesso tipo di discorso io non approvo questo sia ben chiaro insomma ma non è che non approvi in quanto cristiano in quanto sacerdote ma non approvi in quanto credo che sia contrario al vangelo lo sparare giudizi noi purtroppo adesso siamo su un social siamo su instagram no quindi l'avvento dei social perdonatemi se faccio questa piccola divagazione poi rientriamo come dire ha come effetto controproducente che ci sentiamo tutti quanti opinionisti tutti quanti legittimare a giudicare a criticare a dire quello che pensiamo su qualunque cosa succede e questo a volte investe anche diciamo così personaggi eccellenti io parlo da sacerdote autorità ecclesiastiche io ecco adesso recentemente papa francesco ha autorizzato i pellegrinaggi a meggiugori questo non significa che abbia provato le apparizioni ma mi ha molto colpito un messaggio di meggiugori che ho letto di qualche tempo fa che la Madonna diceva queste testuali parole è tempo di parlare poco e pregare molto ecco penso che faremo tutti quanti bene a ad ascoltare questa raccomandazione insomma no ecco che quindi ecco questo è quello che io penso claudia zanzeri ho già sentito sentito già due insigni sacerdoti non ammettere il concetto di fusione riferendosi al concilio di calcedonia ma che questo questa è un'altra cosa no cioè la fusione del concilio di calcedonia è evidente che questo è un'eresia riguarda non l'atto di fusione di volontà insomma ma riguarda il modo con cui le nature umane e divine di gesù erano unite attraverso unione ipostatica e questa unione come ha sancito il concilio di calcedonia non comporta né una separazione di esse in due persone distinte come se gesù fosse l'uomo cristo gesù e il figlio di dio che si sono uniti moralmente quindi e né una fusione o confusione delle due nature come dicevano i monofisiti perché in questo caso la natura divina evidentemente sul classerebbe sovrasterebbe quella umana non lasciandole agire da vero uomo e invece distinte pur unite e non separate non confuse ma vero dio e vero uomo questo in due parole disse il concilio di calcedonia ma questo riguarda il dogma della unione ipostatica non certamente ciò che si dice circa l'unione della vita nella divina volontà l'izzacadipo il padre e la madre possono cresimare il proprio figlio alcuni sacerdoti lo sconsigliano adesso io non sono un canonista e a quanto ne so sicuramente non è una cosa consigliabile se sia una cosa proibita dal diritto generale sinceramente non ne sono certo quindi dovete pensare figlio alle mie cariche un povero prete non è un tuttologo quindi non è l'ambito in cui sono esperto certamente non è una cosa sensata perché il padrino della cresima o anche del battesimo è un educatore già investito del compito di educare nella fede in forza del sacramento del matrimonio e del battesimo ecco se non ricordo male devo dare un attimo una verifica al volo no no credo che sia proibito credo credo che non che non è soltanto un problema di sconvenienza è proibito dalle norme canoniche attualmente vigenti Teresa Bianchi 04 chiede i pensieri che affiorano nella mente anche in maniera insistente e continuativa quando diventano peccati quando a questi pensieri si presta il consenso Sant'Alfonso Maria dei Liguori amava formulare questa fila strocca non sono peccati i mali pensieri ma sono peccati i mali consensi non è difficile capire quando un pensiero l'abbiamo consentito se ci facciamo attenzione insomma perché se io dinanzi a un pensiero provo fastidio cerco di distogliere lo sguardo altrove pur sentendo un certo allentamento certamente non ho consentito se invece il pensiero lo consento lo so se mi passa se mi viene un pensiero tipo di mandare un accidente a qualcuno e io quell'accidente a qualcuno glielo mando a mente cioè a Roma dicono ma va a morire puntini 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 glielo dico a mente io lo so se l'ho detto invece se mi passa quella cosa e faccio un moto come dire di respingimento di quel pensiero non c'è peccato stessa cosa vale per i pensieri impuri per i pensieri di bestemmie o cose analoghe Rosario Scapolatiello dice Maria Leonardo qualche volta potrebbe fare un video descrittivo della sua bellissima chiesa secondo so che la curiosità non è cosa buona può dirci come si chiama il suo gatto allora non ho gatti miei insomma non diciamo che i gatti che circolano dalle dalle mie parti non sono diciamo miei in senso stretto ecco ma un buon prete è accogliente anche di queste creature dell'altissimo compaiono in terrazzo hanno fame quindi sono sempre i benvenuti e i bene accolti insomma ecco però domande personali è sempre meglio senza offesa chiaramente per Rosario ecco evitarle insomma specialmente quando sono diciamo così di nessun tipo di di rilevanza e di edificazione no cioè sappiamo che un sacerdote ma anche un laico può raccontare qualcosa della propria esperienza di vita quando ha come fine l'edificazione nella fede o nella carità nei confronti del prossimo no ecco però ecco non vorrei insomma portare diciamo così questa trasmissione insomma a un grado diciamo ecco mi raccomando senza offesa non si offenda insomma il caro Rosario un video di scrittura della bellissima chiesa non mi ricordo sì si potrebbe si potrebbe certamente fare solo che ci vogliono delle competenze non indifferenti perché io della mia chiesa so abbastanza ma non mi ricordo nel dettaglio gli ultimi particolari perché la mia chiesa è una chiesa d'arte insomma ogni cappella ha dipinti e quadri insomma che hanno un attore ben preciso una data ben precisa e certamente io sono anche un pochino in grado di ci si può pensare conosco delle persone che potrebbero anche aiutarmi ci possiamo certamente certamente pensare forse sarebbe una bella cosa insomma anche in vista delle prossime feste che ci saranno qui in parrocchia your leggy m scrive nella confessione il sacerdote nella soluzione deve usare tutta la formula e allora la formula della come dire la sostanza della soluzione io ti assolvo le due peccati nel nome del padre del figlio e dello spirito santo questa frase deve essere ditta dal sacerdote il resto come dire è una frase come dire che accompagna la formula in senso stretto e che non è necessaria ad validitatem le antiche rubriche quelle che conosco io perché si può usare anche la formula antica si può anche dare la soluzione latina dicevano che in casi di necessità il sacerdote può dire soltanto quindi certamente da un punto di vista sostanziale se c'è necessità se le circostanze lo richiedono è possibile farlo anche se sempre meglio ecco fare le cose fatte bene Vilzi a 77 dice condivido in pieno la sua opinione non so quale opinione quindi eventualmente se poi forse quello che stavamo dicendo prima sul fatto che è bene evitare di chiacchierare sull'operato del prossimo Lizza Galipo dice alcune parrocchie il sacerdote non vuole che si inginocchi durante la consagrazione perché il vescovo è contrario mi sembra molto strano perché le norme liturgiche sono emanate a livello come dire di santa sede quindi non sono cose su cui il vescovo abbia possibilità di legiferare il vescovo ha potestà legislativa può dare norme di condotta e di vita e di pastorale nella propria diocesi vincolanti tra l'altro per i fedeli per esempio io conosco i vescovi che prima è uscito il discorso del padrino e della madrina sono sicuro che in alcune diocesi è proibito fare il padrino e la madrina di chiesia per esempio il fradero e la sorella o il nonno era nonna quindi sono cose non previste dal diritto canonico un vescovo un vescovo se vuole può mentre non potrebbe dire lo fanno papà e mamma può dire non lo fanno nonna e nonna d'accordo un vescovo non può andare contro la legge della chiesa ecco per cui io spero che non sia vera questa cosa ma siccome le norme liturgiche attuali dicono che è prescritto non raccomandato è prescritto a tutti compresi i diaconi permanenti perché se voi fate caso nelle concelebrazioni dove ci sono i diaconi permanenti anche a fianco al vescovo i diaconi permanenti durante la consagrazione stanno in ginocchio perché dalle epiclesi fino al misterium fidei a meno che non ci sia un legittimo impedimento certo se uno ha le cartilagini distrutte non è obbligato a soffrire del martirio insomma anche se lo fa tanto meglio per lui insomma ma non c'è più l'obbligo però stare in ginocchio durante la consagrazione è prescritto dalle norme liturgiche per cui non è una cosa derogabile né dal celebrante e nemmeno dalla potestà pur grande di un vescovo che comunque lui è il garante della della che cioè come dire che siano osservate le norme liturgiche della chiesa anche perché nella diocesi il vescovo è il sommo sacerdote quindi è il liturgo per antonomasia quindi spero che sia un'informazione sbagliata spero che sia una cosa insomma che che non in ogni caso i vescovi sono soggetti come quando c'è un parroco discolo il parroco discolo è soggetto al vescovo quindi il vescovo viene avvertito e correggerà il stesso dato discolo se c'è un vescovo discolo si avverte la congregazione dei vescovi alla santa sede la quale riprenderà il vescovo discolo perché qui nella chiesa cattolica nessuno può fare come ci pare ci sono le autorità gerarchiche superiori che in caso di comportamenti non corretti da parte delle autorità inferiori intervengono come sappiamo la suprema autorità nella chiesa cattolica l'unico che non ha autorità di sopra di sé se non altissimo è il santo padre tutto il resto sono sempre soggetti ecco buonasera Leonardo Maria può spiegare l'apparizione di Carabandale può essere riconosciuta non è questa la sede in cui si può parlare di un'apparizione c'è del materiale mio che circola in giro e sul web c'è già abbastanza l'apparizione di Carabandale non è stata riconosciuta dalla chiesa cattolica che lo possa essere sicuramente è vero ma allo stato attuale non lo è stata Francesca Estrella chiede Salve Don Leonardo il digiuno si può intendere valido anche con pane e verdura non di solo pane ma allora ci sono tanti tipi di digiuni possibili il digiuno dice Santo Ammaso d'Aquino consiste anche nella riduzione sensibile o della quantità del cibo oppure per esempio nello spostare di molto il momento in cui si mangia che adesso uno che è abituato a mangiare a mezzogiorno mangia alle tre quindi già queste sono delle forme embrionali di digiuno i digiuni diciamo così classici praticati nella chiesa però sono il digiuno canonico il digiuno a pane e acqua e il digiuno assoluto questo lo diciamo per ragioni di completezza ma mi raccomando discernimento e discrezione perché ci vogliono sempre ecco nella vita buono stato di salute e compatibilità con i propri doveri per fare gesti ascetici significativi il digiuno a pane e acqua è digiuno a pane e acqua quindi non è pane e verdura è pane e acqua d'accordo si può mettere come dire un goccettino di olio nel pane se uno crede si può prendere qualche caffè ma fondamentalmente il digiuno però è pane e acqua il digiuno canonico consiste nella come dire nell'eliminazione di uno dei due pasti principali o una riduzione proprio ai minimi termini insomma quindi proprio allo stretto indispensabile meglio se il pasto venga eliminato il digiuno assoluto consiste nel togliere dall'alimentazione per una giornata per 24 ore i cibi solidi quindi pane quindi lasciare semplicemente che ci si nutra di acqua o di qualche bevanda tipo un caffè o cose di questo genere quindi evidentemente se la signora intende come dire se la signora Francesca Estrella intende tutti sanno che la Madonna Meggiugorie avrebbe io uso sempre il condizionale per rispetto alla funzione ecclesiale perché non si può io non me la sento di dire la Madonna ha anche se personalmente posso anche crederci a Meggiugorie ma non sarebbe corretto siccome la Madonna avrebbe chiesto il digiuno a pane e acqua se uno crede che quella è la Madonna e chiede il digiuno a pane e acqua se vuole fare quello che la Madonna ha detto deve fare il digiuno a pane e acqua perché d'accordo quindi non non può farlo a pane e verdura quindi se intende con questo valido certamente quello è comunque un digiuno è un piccolo digiuno che si può offrire al Signore e certamente gli è gradito Gio Pierpaoli e Maria Pate come me le dine vantaggio se non parla mai di Eva in che posizione si trova allora non si parla di Eva perché Eva non è la capostipite dell'umanità anche se è stata secondo la saga scrittura il ponte diciamo così il cavallo di Troia attraverso cui Satana è giunto al capostipite dell'umanità perché il problema del peccato originale se avesse peccato soltanto Eva non ci sarebbe stato tutto quello che c'è stato perché Eva non era la capostipite dell'umanità per inquinare l'albero bisognava inquinare la radice Adamo era la radice e quindi la cosa importante su cui focalizzare l'attenzione è Adamo certo che anche Eva compiendo il peccato originale immediatamente anche lei aveva il dono della divina volontà secondo gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta evidentemente col peccato originale anche lei lo ha perduto Deborah con 72 dice buonasera Leonardo volevo meglio capire meglio la differenza della presenza reale e la presenza mistica di Gesù in un'anima grazie io il termine presenza reale di Gesù in un'anima sinceramente non l'ho mai sentito insomma ne ho letti un bel po' insomma di libri perché presenza reale è il termine che si usa per indicare la presenza di Gesù nell'eucaristia in un essere umano insomma come dire si può parlare di questo in maniera un pochino più analogica insomma perché per presenza reale si intende la presenza di tutto Gesù così come in cielo in corpo sangue anima divinità nell'eucaristia con l'unica differenza che occupa lo spazio non attraverso leose membra fisiche ma attraverso le specie eucaristiche e basta nelle anime si realizza una presenza certamente mistica di nostro Signore questo in termini adatto più quando si hanno esperienze mistiche insomma per esempio Gesù parla insomma prima è stata citata la serva di Dio Luisa Piccarreta Luisa Piccarreta Gesù dice tante volte che stava nel suo interno che stava nascosta dentro di lei ogni tanto usciva fuori si faceva vedere quindi ci sono queste cose per noi misteriose con cui certamente Gesù può operare nelle anime insomma ma personalmente in termini di presenza reale ecco sapete io insomma sono con le mie competenze teologiche da riservare alla presenza di Gesù nell'Eucaristia Rizzo 4692 chiede caro padre io ho fatto nel 2016 la consacrazione alla Divina Volontà poi ho letto 12 libri di Cero e poi non sono più riuscito ad andare avanti cosa può essere successo un consiglio signora cara non bisogna fare in questa sede domande di tipo questa è una domanda di tipo personale d'accordo quindi la risposta a questa domanda richiederebbe un colloquio capire quello che è successo capire quello che ha fatto se ha fatto un gesto come dire precipitoso fatto prima del tempo insomma e cosa è successo dopo quindi non è questa la sede opportuna sia perché non ci sono le circostanze sia perché evidentemente di queste cose non è assolutamente il caso di parlarne in pubblico Silvia Sacripanti dice Ave Maria Padre di Dio ma tutti allo stesso modo ma alcuni padri della Chiesa fanno notare come Gesù mi compie direzione Giovanni può dire qualcosa al riguardo ci sono due questo è un parlaggio a San Tommaso d'Aquino c'è un amore di compassione e di misericordia e anche l'amore diciamo così fondato sullo statuto ontologico di ogni creatura ogni anima è creata da Gesù e come sappiamo ha un valore unico e insostituibile ai suoi occhi quindi sotto questo punto di vista tutti hanno lo stesso amore però è vero che amor canullamato amar perdona quindi è vero che nella Sacra Scrittura si legge anche attribuito alla Sapienza io amo coloro che mi amano quindi c'è un amore come dire fondato sullo statuto ontologico della creatura quindi un amore di compassione di misericordia e di benevolenza si può chiamare in questi modi ma c'è anche un amore di predilezione che è fondato semplicemente sul fatto che la creatura corrisponde all'amore di Gesù accoglie il suo amore e lo ricambia e quindi certamente evidentemente Gesù lo ama anche con quest'altra forma di amore che non può avere nei confronti di chi non lo ama non lo ricambia è freddo è indifferente o peggio ancora sprezzante nei suoi confronti questo lo si capisce abbastanza bene Elisabetta esposito caro Donardo può spiegare perché i tatuaggi sono proibiti i tatuaggi di per sé non sono proibiti nessuno si scandalizzi insomma i tatuaggi sono ordinariamente da evitare perché per due motivi ecco due perché la tatuazione un primo perché la tatuazione è purtroppo un atto a quanto è dato di sapere proprio prescritto in alcuni rituali praticati dalle sette sataniche pare a quanto si sa specialmente quando uno volesse come dire scalare qualche vetta gerarchica all'interno di esse prima cosa la seconda cosa perché comportano un'alterazione indelebile al proprio corpo che di per sé se si può è meglio evitare è intervenuto Papa Francesco recentemente però su questo tema no certamente tutto quanto il dilagare di orribili tatuaggi che ci sono oggi in giro non è certamente cosa bella né cosa buona anche perché il buon gusto il buon senso evidentemente insomma non c'è bisogno di commentare troppo però per esempio adesso non voglio far creare come dire desideri mazzani se uno va a Loreto io l'ho visti con gli occhi miei erano scorso in pellegrinaggio a Loreto c'era una mostra dove c'era per esempio il tatuaggio del pellegrino cioè le persone che andavano in pellegrinaggio a Loreto si tatuavano poi un piccolo tatuaggetto sacro per motivi di devozione rappresentante appunto la madonnina di Loreto adesso non me lo ricordo bene con una crocetta a cose di questo genere per cui quando proprio Francesco gli hanno chiesto questa cosa gli hanno fatto questa domanda se i tatuaggi si possono fare o non si possono fare sono proibiti non sono proibiti ha dato una risposta molto intelligente che è una risposta che darei anch'io d'accordo il tatuaggio è qualche cosa da cui non si torna indietro ecco per cui stai molto attento a valutare in coscienza se è proprio necessario farlo ed eventualmente dove come e cosa e perché lo fai d'accordo quindi questo è evidentemente che una persona che si tatuasse sul cuore per esempio il tatuaggio della Madonna di Loreto come atto di amore alla Madonna non per ostentarlo e non per andare a fare il bello ma per un gesto di amore io mi sbaglierò insomma spero che il nostro signore non mi mandi all'inferno per questo motivo non credo che faccia una cosa insomma in se stessa disdicevole certo che bisogna essere molto cauti molto attenti e molto equilibrati e certamente evitare insomma quelle mostruosità insomma che si vedono adesso in giro braccia completamente che fai tatuaggi insomma che mi raccontava che lui ha tuttora adesso una certa deontologia professionale ma una volta era proibito e lo sarebbe ancora per ragioni deontologiche non si tatua la faccia non si tatua il collo non si tatuano le mani quindi si tatuavano soltanto alcune parti del corpo insomma adesso ormai se ne vedono veramente di tutti i colori e si diventa mostri insomma quindi si si deturpa anche la bellezza che Dio ha dato al nostro corpo naturale quindi è una problematica complessa quindi l'idea di massima è sconsigliabile fare il tatuaggio circostanziando la ben precise e motivate eccezioni se ne può discutere si può parlare di questa cosa spero di essere stato esauriente insomma 0 folla 63 buonasera carissimo donardo nella parrocchia a settembre sta affidata ad un diacono personalmente sento molto la mancanza di un parro con lei che ne pensa grazie di quale io non posso pensare su questa cosa posso dire che questa cosa è canonicamente possibile allo stato attuale è un atto discrezionale che compete al vescovo in situazioni di reale evidentemente grave necessità pastorale fermo restando che alla parrocchia deve essere assicurato la presenza almeno come dire occasionale di un sacerdotese per quanto riguarda la celebrazione dell'eucaristica e per quanto riguarda il sacramento della confessione che un diacono non può amministrare nell'uno o nell'altro può presiedere una liturgia della parola con distribuzione dell'eucaristica ma non può celebrare la messa e come dico sempre in giro 100 miliardi di celebrazioni della parola con l'eucaristica non fanno neanche mezza messa ecco e così non può confessare può fare tutti quanti colloqui anche spirituali con persone può aiutare i poveri può gestire la carita anzi questo proprio il campo proprio di un diacono quindi è una cosa possibile prevista preghiamo molto perché ci sono delle situazioni a volte di seria carenza vocazionale che non ci sono altri modo di ovviarli bisogna pregare il padrone della messe che mandi operare nella sua messe perché i sacerdoti in alcune zone d'Italia sono una razza in via di estinzione e quindi ci sono questi fenomeni affidamento delle parrocchie diaconi è successo anche da queste parti per un certo periodo qualche tempo fa oppure la formazione delle unità pastorali quindi che consistono nell'accorpare più parrocchie sotto diciamo così la corresponsabilità di alcuni sacerdoti animo gra 70 dice non ci abbandonate la tentazione è giusto probabilmente fa riferimento alla nuova traduzione della penultima petizione del padre nostro che entrerà in vigore con il nuovo messale anche su questa questione io figlioli miei cari se il nostro signore mi manderà all'inferno per questo qui speriamo di no o sono o ho perso il senno o sono diventato stupido oppure anche qui non capisco sinceramente la motivazione di tanto polverone insomma no cioè quando il termine per tutti insomma il termine per un'anima sprovveduta non ci indurre in tentazione sembra quasi che Dio ci induca in tentazione ma Dio non ci induce in tentazione se uno prende già San Tommaso da qui quando spiegava il padre nostro che spiegava questa petizione appunto la spiega tenendo subito in considerazione come dire l'obiezione allo scandalo che viene da questa formulazione ma come che Dio tenta qualcuno al male lo troviamo anche nella sagra scrittura Dio non tenta nessuno al male e non induce nessuno al male ma sono le nostre passioni fomentate dal diavolo che ci portano al male quindi San Tommaso dice questa petizione intende chiedere al Signore primo che tenga lontana da noi la tentazione secondo se nella soprovvidenza permette che siamo tentati per il nostro bene che ci doni la forza di resistere di combattere e di superarla non abbandonarci alla tentazione esprime penso queste due cose cioè non permettere che mi assalga e se mi assale non farmi per rinessa quindi tra l'altro quanto ne so credo che riguardi soltanto la traduzione italiana non anche il testo latino per cui io tutta questa lacerazione di vesti e vengono cambiate le preghiere della chiesa dico boh cioè mi sembra un po' come dire poi il problema delle traduzioni è sempre così perché per esempio prendiamo la preghiera a San Michele Arcangelo se tu la preghiera a San Michele Arcangelo in latino c'è un testo ben preciso in italiano San Michele Arcangelo difendici nella battaglia oppure difendici nella lotta prelio dipende il nostro imprelio lo puoi tradurre sia con lotta che con battaglia quindi questo vale per tutti quanti i testi cioè ogni traduzione comporta certamente una e questo è un problema anche quando si recita l'angelus dice l'angelo del signore portano annunzi a Maria e la concezione va bene ma poi ecco l'ancella del signore oppure ecco mi sono la serva del signore poi si faccia di me secondo la sua parola o si compie me la tua parola la traduzione in lingua differente dal testo originale comporta questa problematicità su questo si può anche discutere se è il caso o no o se in certe circostanze forse non sarebbe bene usare il latino senza che nessuno si strappi le vesti anche per questo motivo piuttosto che le traduzioni di questo se ne può parlare insomma ma non come dire sempre mantenendo toni sereni e moderati insomma ecco Gentile Don Leonardo chiede Cristina Bianco 3 i piccoli uffici ad esempio quello dell'immacolata concezione o volendo va recitato in sostituzione all'ufficio divino o affiancarlo premesso che questo è il problema che riguarda coloro che sono tenuti alla recita dell'ufficio divino ma il piccolo ufficio dell'immacolata non può sostituire l'ufficio divino ordinario ma lo può soltanto affiancare Angelc17 aveva detto Leonardo purtroppo con l'avvento dei social come ha poi va bene questa è interrotta questa domanda allora la nuova formula del padre nostro scrive sempre Animor G70 attualmente non si può usare perché questa entrerà in vigore con il nuovo messale quando entrerà in vigore si userà la formula nuova prima no ecco perché non è ancora in vigore nella 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 chiesa e chi lo fa la faccia fatta entrare in vigore anticipa decisioni che devono essere prese dalla conferenza episcopale italiana che preghiamo per loro che sono riuniti in questi giorni fino a domani credo compreso venga il tuo regno fiat voluntastua dice salve Leonardo ho letto che la conservazione la tiene volontà e bene fare nel giorno delle dipendere a 20 coste questo non ho mai sentito comunque certamente non è male come bisogna prepararsi non lo so non c'è un non conosco io come dire io personalmente prima di fare una cosa di questo genere suggerisco calma e cautela nel senso che una persona deve essersi resa conto almeno a grandi linee di che cosa comporti il desiderio e l'opzione di vivere nella divina volontà e e abbia maturato una decisione ferma d'accordo ferma e irremovibile perché non è bene come dice Gesù nell'Evangelo chi prende mette mano la rata e poi si volge tra indietro non è adatto per il regno dei cieli quindi certamente occorre un tempo in cui una persona senza prendere impegni conosce medita ascolta ascoltava che catechesi si legge un pochino di libro di cielo io suggerisco di fare bene perché danno un'ottima idea le 30 meditazioni del Vergine Maria nel regno della Dina volontà San Luigi dice che per fare la consegrazione tutto struso occorre fare 30 giorni di preparazione quella è volendo si potrebbe considerare un'ottima preparazione ma bisogna essere ben motivati e fermi e non fare una cosa in maniera avventata perché poi non si mantiene non si vive coerentemente con questa scelta oppure si torna indietro buonasera Don Leonardo e chiede paraolga perché Gesù dice di sei figlio dell'uomo grazie non so dove mi hanno posto la stessa domanda in questi giorni comunque figlio dell'uomo secondo il parere di Monsignor Rino Fisichella che è stato professore mio di teologia fondamentale usato da Gesù unisce in sé due figure vetro testamentari quella del servo di Yahweh che in Isaia nei quattro canti profetizza le terribili sofferenze dell'uomo dei dolori quindi figlio dell'uomo cioè incarnazione dell'uomo sofferente per la salvezza del mondo ma proprio il termine figlio dell'uomo così come lo pronuncia Gesù compare nel profeta Daniele una figura misteriosa vedi uno simile a figlio di uomo a cui fu dato potere gloria e regno e tutti i popoli lo servivano il Monsignor Fisichella dice che attribuendosi questo titolo quindi figlio dell'uomo Gesù vuole fare riferimento primo alle sue sofferenze terribili per la nostra salvezza e quindi il servo di Yahweh di Isaia e secondo alla gloria che a queste ne sarebbero seguite quindi a figlio dell'uomo secondo la redazione del profeta Daniele spero di essere stato chiaro abbiamo fatto in due minuti un argomento insomma abbastanza complicato Maria Antonietta Battista il terremoto come deve essere vissuto per una persona che ha fede accorato c'è stato il terremoto magnitudo 4 non so quando grazie Don Leonardo il terremoto è una calamità naturale causata come sappiamo dal male presente nel mondo a causa del peccato dell'uomo quindi in questi eventi non c'è una volontà intenzionale di Dio ma semplicemente una permissione divina quindi il terremoto va vissuto da un cristiano come dire con spirito penitenziale ecco quindi di accettazione rassegnata di una cosa di questo genere quanto più è maturo nella fede quanto più è in grado anche di offrire eventuali sofferenze ad essa connesse ovviamente senza darne la colpa e bestemmiare per questo il padre eterno ecco ma facendo un mea colpa perché dietro tutte queste cose c'è sempre come origine prima e remota il male presente nel mondo a causa del peccato dell'uomo di ogni uomo e di tutti gli uomini angelcare 17 purtroppo con l'avvento dei social accade a volte che gente sconosciuta commenti con volgarità o offese gratuite come bisogna comportarsi rispondere con carità o ignorare non si deve mai rispondere chi fa queste cose ognuno poi decide quello che in coscienza gli sembra opportuno io evidentemente questo lo sanno le persone che mi seguono non permetto che si facciano queste cose nelle mie social nelle mie bacheche ci sono ovviamente c'è un team di collaboratori che mi aiutano e che rimuovono commenti di questo genere ammoniscono la persona con carità e con dolcezza insomma dicendo guarda caro figliolo e cara figliola insomma su una bacheca di un sacerdote insomma si evitino questi comportamenti se la persona reitera vengono poi tolte dalle amicizie e se continuano a disturbare vengono poi completamente bloccate perché non non è insomma bello ecco agire in questo modo certamente prima di prendere provvedimenti si si cerca insomma con dolcezza e con carità di chiedere umilmente che si evitino certi stili e certi comportamenti insomma no però poi ognuno insomma decide in coscienza come amministrare le proprie bacheche insomma i propri profili Lizza Calipo al termine della confessione si deve sempre dire l'atto di dolore e la discrezione al sacerdote l'atto di dolore è prescritto dal rituale della penitenza per cui deve essere ordinariamente detto dal penitente su invito del sacerdote prima dell'assoluzione quindi agire diversamente è non rispettare le norme liturgiche inerente all'amministrazione del sacramento della penitenza Sara Cardone dice buonasera Don Leonardo si possono far celebrare i decidi di messe per la propria conversione o per altre persone ancora in vita certamente sì cosa buona e oltremodo lodevole perché le messe non si celebra non soltanto per i defunti ma anche per i vivi l'izzagalipo mia figlia ha fatto la cresima e il vescovo che alla fine non è intervenuto e ha detto al sacerdote che i bambini non dovevano agginocchiarsi io ho spiegato a mia figlia che è sbagliato va bene i singoli episodi abbiamo già parlato di questo bisogna informarsi bene eventualmente parlarne e poi eventualmente consigliarsi e decidere circa il da farsi Rosy Biffi dice tra poco si veda per l'Europa non mi sembra che ci siano partiti che difendano la santa fede come comportarsi ma partiti che difendano la santa fede non è indispensabile che ci siano l'importante quando si deve andare a votare ci si deve mettere in silenzio in preghiera davanti a Gesù davanti al Santissimo Sacramento è ovvio che bisogna un minimo informarsi bisogna informarsi sui programmi che hanno le varie correnti partitiche e politiche dopodiché in coscienza dare il proprio voto a chi si ritiene più vicino ai valori che per noi sono assolutamente prioritari e non dare il proprio appoggio a chi quei valori li contraddice o intende contraddirli perché altrimenti ci si rende complici e responsabili di comportamenti che poi vanno a questo sì distruggere pubblicamente non soltanto la fede ma anche la morale ecco questo è quello che si deve fare un sacerdote non deve fare politica né un vescovo deve fare politica né bisogna dire vota questo piuttosto che quell'altro ma ogni fedele e anche un prete e anche un vescovo deve fare questo tipo di discernimento oculato sapendo che Dio prende atto di quello che noi esprimiamo insomma che abbiamo bisogno e quando non è possibile come dire formulare un voto ideale quindi che non c'è qualcuno che mi rappresenta al 100% bisogna optare sul meno peggio e anche a mio modestissimo avviso però già questa è una valutazione un po' più tecnica dare un voto almeno peggio e che sia utile d'accordo cioè dare voti a partitini piccoli 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 che sicuramente non avranno peso non avranno anche se uno può anche dire oh senti a me in coscienza questo mi rappresenta al 100% per cui anche se prende lo 0,6% lo voto lo stesso questo si può fare bisogna fare discernimento e vedere se piuttosto che dare un voto che non sarà influente ad un partito che è piccolissimo che magari mi rappresenta al 100% forse non sarebbe il caso di dare l'appoggio ad un partito che mi rappresenta al 70% ma che però nella competizione ha possibilità di avere un certo peso no? ecco a linea delicata tornare dopo la chiesa modificare il Vangelo e la volontà di Dio a linea indelicato questo non lo può fare nessuno d'accordo nel senso caso della comunione di giuno prima di farlo che restiamo la mano in bocca ma questo non è a linea indelicato Vangelo o volontà di Dio d'accordo queste sono disposizioni canoniche cioè la durata del digiuno prima della comunione dipende dalla legge della chiesa i modi con cui distribuire la santa comunione dipende dalla legge della chiesa la legge della chiesa non è diritto divino quindi non è dogma di fede quindi sono cose assolutamente mutevoli ma non è né volontà di Dio e né Vangelo Irene Fontana 1976 buona sera è vero che il battesimo protestante guarda quello cattolico grazie non sempre non tutti cioè ci sono una serie di comunità separate sono proprio censite dalla santa sede che si ritiene che amministrino validamente il battesimo altre no il battesimo è un sacramento essenziale non ci vuole un granché per amministrarlo validamente perché basta appunto usare la formula di battesimo il nome del padre del fede e lo spirito santo però ci sono anche dei requisiti minimi di garanzia che devono sussistere perché si possa ritenere che un battesimo valido sia esistente Vettori Clara dice buonasera Donato ho sentito che sarebbe opportuno far benedì i tatuaggi da un esorcista e le cose ne pensi dipende che tipo di tatuaggio è insomma se è un tatuaggio brutto certamente certamente sì si d'accordo se è un tatuaggio neutro tipo che mi sono scritto non lo so il nome di mia moglie sul braccio quello può essere una cosa diciamo così bruttarella da un punto di vista estetico ma non dovrebbe portare male invece ci sono dei tatuaggi brutti con dei disegni brutti ecco con delle simbologie brutte e certo ovviamente quelle la bisogna è certamente opportuno farli benedire da un esorcista va bene saltiamo un po' di grazie Sibilla Libis mio figlio che abita di cinque anni sta guardando insieme a me e vorrebbe chiedergli parlare degli angeli custodi oh gli angeli custodi sono dei come tutti i canti gli angeli sono dei puri spiriti sono degli esseri molto superiori a noi è un dono che il signore ci ha fatto nel senso che noi abbiamo questa presenza al nostro fianco invisibile ma reale che come si dice nell'angelo custode nella preghiera dell'angelo custode è il compito di custodirci di illuminarci di vegliare su di noi e di proteggerci ecco noi non lo possiamo avvertire non ne sentiamo la voce non ne vediamo le sembianze ma lui realmente c'è vicino e cerca di spronarci sostenerci portarci verso il bene fino a quando siamo in questa terra e poi quando saremo morti ci accompagnerà prendendoci per mano lì dove dobbiamo andare al cospetto del giudizio particolare perché noi mortali non ne conosciamo la strada tutti hanno un angelo custode di qualunque anche persone non cattoliche non cristiane di altre religioni ogni uomo c'è un angelo custode qualcuno crede che persone che abbiano qualche funzione particolare particolarmente importante possano averne più di uno Deborah CO72 mi sembrava di aver letto nei scritti di Luisa che le anime che vivono nella dignità fanno vita reale insieme a Gesù e non lo vivono come presenza mistica forse ho frainteso grazie vita reale sì è un'altra cosa quindi è un discorso questo però un pochino complesso ecco che non è questa la sede per approfondirlo perché bisognerebbe fare una piccola catechesi sulla divina volontà ecco qui non è proprio la sede prossimamente penso dalla prima settimana di giugno che adesso a maggio mi sono stati chiesti insomma di fare un po' di rosari con i giri nella divina volontà quindi già sto tre sere a settimana insomma in diretta però da giugno dovrebbe cominciare un nuovo ciclo di catechesi sulla divina volontà dove saranno ulteriormente approfondite altre cose per chi è interessato a questo a questo argomento e cosa accade quindi nell'atto di fusione nell'atto di fusione ecco la volontà umana e la volontà divina si uniscono insieme certamente rimanendo come dire non non completamente confuse ma appunto fuse insieme e succede che la volontà umana diciamo così gli atti che compie diventano assumono un valore non più semplicemente umano ma divino quindi partecipando delle caratteristiche divine di eternità immensità eterni immensi e infinità e infiniti ancora debora cosa 72 se mi fondo in Gesù Gesù è chiamato a fondersi in me per esempio nei miei passi sono i suoi quindi ad operare a che vedere con la presenza di Gesù in noi debora sì si chiamano queste cose insomma però la nostra conoscenza di questa realtà non è del tutto come dire comprensibile perfettamente dominabile da noi sono esperienze che noi viviamo sempre dentro l'orizzonte della fede allora qui ci sono delle considerazioni scorro un pochino Roberto Torino ciao Donato sono di Torino mi piacerebbe incontrarla verrà in futuro da queste parti che Dio la benedica Roberto Torino verrò se così la divina volontà disporrà adesso non le so dire circa la vostra risposta se il tatuaggio non è proibito in Levitico allora in Levitico è proibito così è come è proibito a farsi immagini alcuna di Dio Altissimo nell'Antico Testamento chi si faceva in incisione e tatuaggi come dire ecco terrificanti anche con sanguinamenti o cose di questo genere come si vede nel profeta Elia erano le religioni idolatriche pagane che oltre a questo facevano anche sacrifici umani d'accordo ecco nell'Antico Testamento come insegna la De Verbu ci sono delle cose che sono imperfette alcuni folli hanno tagliato le mani d'accordo prima del concilio di Nicea II a pittori cristiani perché dipingevano le immagini della Madonna dicendo che nel Levitico c'era scritto che non bisogna farsi immagini alcuna di colui che è lassù nei cieli d'accordo quindi bisogna essere cauti ecco sapendo che alcune cose dell'Antico Testamento hanno avuto un valore transitorio ecco ma vanno lette dentro il complesso alla luce del nuovo ecco Santa Margherita Maria La Cocca a proposito di incisioni ha preso un coltellino basta leggere la sua biografia non lo fate mi raccomando ha preso un coltellino l'ha roventato e si è scritta sul petto Gesù in francese non credo che sia andata all'inferno perché aveva contraddetto il libro del Levitico siamo sempre attenti ad avere un pochino di discernimento senza diventare fondamentalisti abbiamo un minuto e cinquantotto l'ultima domanda di Raffaella Zanchini mi capita il confessore non inizi il sacramento con il signore di croce e non dia poi la penitenza ovviamente neanche l'atto di dolore non mi sembra cosa fatta bene certamente se così fosse non segue le norme liturgiche prescritte per l'amministrazione del sacramento della penitenza bene penso che possiamo ci sono un'altra serie di domande altre si ripetono diciamo ecco Beatrice Marazzotti come è possibile oggi ragazzi nessuno ha concepito il rapporto di castità o 23 anni ed è complicato trovare una condivisione su questo argomento ti capisco cara Beatrice non è vero che nessuno sono pochi prega il signore che te lo faccia trovare purtroppo viviamo in una sessualità viviamo in una società completamente qualcuno la chiama pansessualizzata insomma dove il sesso è continuamente sbandierato come cosa assolutamente necessaria è imprescindibile è indispensabile chi non lo fa è fuori di testa insomma non è del tutto normale quindi è normale che questo sia l'ambiente in cui ci troviamo no ecco ti capisco Beatrice siamo riusciti a rispondere a tutte quante le domande mezzo miracolo vi do la benedizione appuntamento se Dio vuole la prossima settimana a tutti su tutti voi scenda nella divina volontà la benedizione di Onipotente Padre Figlio Spirito Santo Amen una buona serena e santa notte a tutti ci vediamo la prossima settimana Fiat Ave Maria Grazie a tutti